L'UnicStar, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Affluisce aria di origine artica sul nostro territorio che nel weekend porterà un freddo di stampo invernale. Vediamo il dettaglio di sabato 25 novembre. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato, cielo pressoché sereno ovunque salvo sui settori dolomitici più settentrionali dove saranno probabili nubi irregolari associate a locali nevicate, qualche fiocco di neve fino a fondo valle. Temperature come detto in calo minime tra meno 2 e 2 gradi, massime invece comprese tra 6 e 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, cielo in prevalenza sereno o velato, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sui 9-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove sarà piuttosto soleggiato ma con forte vento da nord, nevicate diffuse sui settori lungo i confini alpini. Temperature minime sotto lo 0, massime sui 6-9 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. L'UnicStar, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.